Gossip Uomini e donne, Tina nei guai dopo la torta in faccia a James? Ecco perché Uomini e donne Ultime news, Tina Cipollari sottoaccusa per il gesto della torta in faccia a Gemma Cancelletto Tina Cipollari continua ad essere al centro della bufera dopo il gesto della torta in faccia a Cancelletto Gemma Galgani che abbiamo visto nel corso della scorsa puntata del dating show in onda su Canale 5 Ormai la situazione allinterno dello studio di Cancelletto Uomini e donne è diventata davvero insostenibile e questa volta la Cipollari ha compiuto un gesto decisamente deplorevole nei confronti della Galgani, che ancora una volta alla sua età si è ritrovata umiliata in quella che dovrebbe essere una semplice trasmissione televisiva Bufera a Uomini e donne, Tina da una torta in faccia a Gemma Dopo lennesimo scontro che cè stato in studio tra Tina e Gemma, ecco che la Cipollari ha spiazzato tutti lanciando in faccia alla Galgani una torta a base di panna Immediata la reazione di James che anche questa volta è rimasta senza parole e dietro le quinte del programma si è sfogata con la redazione del programma di Canale 5 ammettendo che questa volta Tina ha davvero esagerato e che con questo gesto ha dimostrato al pubblico di Uomini e Donne di odiarla nel vero senso della parole Insomma James non ha nascosto la sua amarezza per questo gestaccio da parte di Tina Cipollari e dalla sua parte in questa settimana si è schierato la maggior parte del pubblico che segue la trasmissione da casa In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro Tina Cipollari, ritenendo che questa volta abbia davvero dato il peggio di se stessa e chiedendo alla De Filippi di poter intervenire in prima persona per fare in modo che si ripristini quel clima di serenità e armonia di un tempo Tina Cipollari, rimproverata dalla De Filippi? In questi giorni molte si aspettavano delle scuse da parte di Tina sui social nei confronti della sua rivale Gemma, ma non è accaduto niente di tutto questo Le gossip news rivelano che nel corso della puntata di Uomini e Donne over trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5, la Cipollari ha addirittura rincarato la dose nei confronti della Galgani Rivedendo le immagini della torta spiaccicata in faccia a Gemma, lopinionista del programma di Maria De Filippi ha ammesso che avrebbe dovuto tirarla con maggiore forza e colpire così in pieno la Galgani Insomma non è stata soddisfatta di questo lancio della torta in faccia a Gemma e questo non esclude che nel corso delle prossime puntate del Trono Over possano esserci nuovi gestacci nei confronti della dama torinese a meno che non decida di intervenire la De Filippi Grazie a tutti!